Primo appuntamento ufficiale per la confraternita del manzo all'olio di Rovato che ieri sera ha inaugurato il 2020 con una conferenza stampa nella sala del pianoforte del municipio di Rovato. Un'occasione per avviare la nuova campagna di tesseramento riservata ai soci vecchi e nuovi ma anche per celebrare i brillanti successi ottenuti dal piatto principe della gastronomia rovatese che nel biennio 2018-2019 grazie all'impegno dell'amministrazione comunale ha collezionato due marchi di tutela come la DECO, denominazione comunale, e la PAT, quale prodotto agroalimentare territoriale, ottenendo poi la definitiva consacrazione nell'evento del chilometro del manzo all'olio. Ecco il manzo all'olio di Rovato, piatto tipico rovatese ma che è conosciuto un po' in tutto il nord Italia ma anche nel resto d'Italia, lo celebriamo anche stasera, lo ricordiamo anche stasera, è nata una confraternita che è una organizzazione assolutamente volontaria che non è dell'amministrazione comunale ma che è nata su ispirazione e come dire su volontà di alcuni cittadini rovatesi che hanno ritenuto questo piatto meritevole di essere promosso e valorizzato. Con la promozione del piatto valorizziamo naturalmente la nostra cultura che è cultura del mercato, cultura del bestiame, cultura della genuinità, cultura della carne, tante robe che vengono in qualche maniera concentrate in questo piatto davvero gustosissimo che io invito ad assaggiare per chi ancora non l'ha fatto. A Rovato in aprile e in novembre ci sarà un mese dedicato al manzo all'olio nei nostri ristoranti tipici di Rovato in cui oltre al manzo all'olio si mangia molto bene per esempio la carne lessa piuttosto che la trippa. Invito a gustare il manzo all'olio, lo dico sempre, con dell'ottimo vino quindi dell'ottimo vino di Franciacorta. Noi Rovato siamo la porta della Franciacorta e qui davvero si mangia molto bene e si beve molto bene. Nel corso della serata, dopo la proiezione di due video dedicati al ricordo delle iniziative del passato, sono intervenuti anche l'ex sindaco di Coccaglio Franco Claretti, attualmente dirigente di Regione Lombardia nei settori agricoltura, alimentazione e sistemi verdi e il maestro della confraternita Alberto Bittu. Questa sera è una serata molto importante per la confraternita del manzo all'olio perché vede protagonista il nuovo tesseramento per i soci, soci che hanno seguito fino a qui dal 2018 ad oggi tutti gli obiettivi che la confraternita ha messo in programma e per i nuovi soci che vorranno partecipare per i nuovi eventi che questa sera proporremo a tutti quanti si associeranno alla nostra associazione, tra cui rinnoveriamo il chilometro del manzo all'olio che ha visto protagonisti in 1200 persone lungo corso Bonomelli. Abbiamo inoltre organizzato e vogliamo ancora portare avanti nel progetto del 2020 un sodalizio per la casa di riposo a favore del volontariato. Vogliamo portare avanti altri progetti che riguardano comunque il volontariato. Abbiamo inoltre previsto di portare un nuovo evento su Rovato che è un altro sogno del cassetto che questa sera sveleremo ai nostri associati.